giovedì 4 maggio è partita a monte sant'angelo la sesta edizione di michael il festival del patrimonio culturale spirituale naturale ed enogastronomico della città dei due siti unesco alle ore 16 presso la sala conferenze della biblioteca comunale ha avuto luogo l'assemblea nazionale di avviso pubblico e a seguire la presentazione del dossier puglia a cura dell'osservatorio parlamentare di avviso pubblico numerosi gli ospiti intervenuti tra cui il padrone di casa pierpaolo darienzo sindaco di monte sant'angelo e coordinatore per la puglia di avviso pubblico ludovico vaccaro procuratore capo della repubblica di foggia roberto montà presidente nazionale di avviso pubblico grazie a tutti